Questo Canicattì sta ruotando a mille dopo la vittoria della Coppa Italia. Ieri non è mancato l'appuntamento con la vittoria, 5 a 2 il risultato con il Mazzara, un risultato soddisfacente. Sì, una bella vittoria ieri con un risultato importante, 5 a 2, era importante soprattutto per dare continuità, dopo la vittoria della Coppa Italia, ad un risultato positivo per non perdere il passo dalla prima in classifica, l'Icata che sta facendo benissimo e quindi dare anche al campionato un'importanza degna di questa competizione. Un 5 a 2 che ha visto andare a rete gli uomini migliori, tra l'altro ieri uno straordinario De Luga con una doppietta personale. Sì, sono molto contento per il ragazzo perché quest'anno aveva fatto pochi gol, ieri fortunatamente si è riscattato, ha fatto una bella doppietta e sono sicuro che sarà il preludio per tanti altri gol da qui alla fine del campionato. Guardando in casa degli altri, l'Icata ha vinto ma ha stentato anche a vincere contro il Cusso di Palermo, ma il Sant'Agata ha perso, quindi si allunga un po' quella che è la posizione, è un tesoretto maggiore per questo Canicattì che rinsalda, quindi è la seconda posizione in classifica. Sì, sicuramente fa scalpore un po' la sconvitta del Sant'Agata ieri a Caccamo, però per noi è un risultato molto favorevole perché la porta a 7 punti di distacco e quindi per certi versi ci mette un po' al riparo da eventuali possibilità di giocarci il secondo posto. Per quanto riguarda invece adesso il campionato, è l'8 a 2 tra l'Icata e Canicattì secondo voi? Sicuramente l'Icata rimane la squadra favorita, noi siamo lì, cercheremo di dare continuità ai risultati positivi, di non perdere il passo e se l'Icata dovesse fare qualche passo falso ci dobbiamo fare trovare pronti. Come avete giudicato anche questo cambio, tornando alla partita di ieri, l'anatore, insomma, mister Terranova ha fatto giocare i giocatori che hanno giocato di meno, tra l'altro una formazione non collaudata contro il Mazzara, magari ha rischiato un po' Terranova ma poi alla fine ha avuto ragione. Sì, il mister ha una rosa disposizione molto ampia e ha ritenuto opportuno ieri cambiare perché avevamo giocato in Coppa, avevamo avuto l'impegno precedente della partita contro l'Icata e quindi i ragazzi che avevano giocato sempre avevano forse bisogno di un momento di riposo e quindi con una scelta secondo me molto azzeccata ha dato spazio ai ragazzi che hanno avuto fino a questo momento meno spazio e diciamo che è stato ricambiato molto bene dalla prestazione di chi in questo momento ha giocato meno. Devo dire e fare complimenti a questi ragazzi che giocano meno ma si sono fatti trovare pronti e quindi ciò sta a significare che la rosa del Canicati è una rosa di giocatori molto seria, molto professionale che ci garantisce diciamo delle prestazioni ad alto livello. L'entità dell'infortunio di D'Angelo? È un piccolo risentimento muscolare, sarà valutato domani con un'ecografia per poi valutare la terapia da fare per cercare di recuperarlo prima possibile. Rientrerà la prossima settimana Vittorio Caronia, quindi Francesco Maggio è stato ammonito ma non credo sia diffidato quindi per quanto riguarda la prossima sfida che previsioni ci sono? Non ci sono diffidati, quindi non c'erano diffidati e quindi non ci sono stati squalificati. Rientrerà Caronia quindi avremo la possibilità, il mister avrà la possibilità di avere tutti gli uomini a disposizione e valuteremo le condizioni di D'Angelo. La partita che ci aspetta domenica è una partita molto difficile, giocheremo contro l'Alcamo che è una squadra che gioca bene a calcio, una squadra che ieri ha vinto e quindi è in una posizione tranquilla di classifica e sarà per noi uno spartiacque importante per poter continuare a sperare di avvicinare Licata.